Alla pronti fiorellini, io sono qui in Ariel e oggi sono con il mio rumeno preferito, il mio ragazzo. Impareremo il rumeno, a meno che lui non inizia ad urlare e mi faccia arrabbiare. Cosa ci insegni oggi? Dipende di cosa vuoi sapere. Non cose brutte. Cioè, cose brutte, dipende di cosa vuoi sapere. Ti parli con una persona, che è un amico, cosa vuoi sapere? Cosa significa perpelitule? Perpelitule. 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 Ma è una parola brutta? No, non tanto, perché si usa di solito quando una persona non ha soldi e fa il figone, tra le virgolette. Uno sfigato. No, non è sfigato, non è una parola così che lo offendi, no? Perché non dici perpelitule. Cioè, hai sentito come tutti diciamo tra di noi? Questo è un perpelitule. Un poraccio. Sfiguritule. Un quattro soldi. No, quattro soldi no. No, ma è troppo cattivo. Quello lì. Va bene. Perpelitule. Una frase che mi dice sempre tuo cugino è D'ammascinata. D'ammascinata. Sai cosa vuol dire, vero? D'ammi la tua macchina. Esatto. Però devi mettere un pochettino l'accento. D'ammascinata. E' quello che mi fai male. Non ti sto neanche toccando. D'ammaier. Senti a lei, oh. Cosa mi fa dire? D'ammaier. Sai cosa vuol dire? D'ammaier. D'ammaier. Va bene. Poi abbiamo imparato che Salute lo dicono i maschi. Anche le femmine. Ciao. Non è ciao. Le femmine dicono di solito buone. Zero. No, no. Le donne. Zio no. Zio. Zio lascia stare quelli che dicono gli vecchi. Ma non significa sera. Buonasera. No, no. Buonasera vuol dire buongiorno. Come buongiorno? Sì. E buonasera? Buonasera. Cioè aspetta un attimo. Buonasera si usa. Sei francese? No, no. Aspetta ascolto. Buonasera in suon suon. Mi ascolti o no? Mi ascolti. Dovete già iniziare a irritarsi e fare cattile. A noi c'è buona divinanza che si usa proprio presto, 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 presto. Buongiorno. Ok? E come usate voi ciao dopo pomeriggio? Buon pomeriggio e buonasera. Noi non diciamo buon pomeriggio. E fa bene. E quindi divinanza vuol dire giorno, mattina, 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 presto. Mattina, mattina, presto. Mattina, alle 5, 5, 7. Dalle 5 alle 7? Ah sì. Dalle 7 alle dopo? No, non puoi dire buona divinanza a mezzogiorno. Come dice buongiorno. Come dico io a mezzogiorno. Buongiorno, dai. Buongiorno. No, no, così. Buongiorno. Di qua, di qua. Ok? Poi, dai dimmi tu perché io non... Ma io ti rifaccio delle frasi, sono troppo lunghe. Nooo. Devi pensare cosa vuoi sapere, tipo. Per dirti, no? Guarda. Adesso ti dico una frase. Vediamo cosa capisci tu. Io un 13 di minuto, trebuis summer la Bologna sotto te, ma tu c'è a me l'aeroporto. Eh perché lo so, fra 13 minuti? No. Fra 30 minuti. Fra 30 minuti vado a Bologna a portare mia zia. Madonna, come sei intelligente. Ma lo sapeva, quindi. Tutti i rumenari? Non rido più. Peste. Peste. 13 di minuto. 30 di minuto. P. P. 30 di minuto. 30 di minuto. Aspetta, nu? Para la Bologna a fare così. 30. 30. De minuto. De minuto. Trebuie. Trebuie. Să. Să. O duc. O duc. Pe. Pe. Mătușa. Mătușa zia. Aspetta. Mea. Mea. La. La. Aeroport. Aeroport. Vai. Maghi scurdoate. Come te scurdoate. Deci. No. Peste. Peste. 30 di minuto. Trebuie. Trebuie. Să. Să. O duc. O duc. Pe mătușa mea la aeroport. Pe mătușa mea la aeroport. 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 Bravo. Prăză. Prăză. Părzi. Părzi. Mâine. Io. Mâine. 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 Vărgeani. se se fa fa pizza pizza cosa deve fare domani bui né bui né bui né vuole che domani facciate non era zia la vostra stare con un'altra questo un'altra già mio vuol dire domani oddio domani noi diciamo domenica no no si lascia stare cosa dice io adesso parliamo rumeno giusto vabbè però stesso che mi ha ricordato vabbè domain domain capisci capisci domen mene 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 tre bampo a dimenticare o mannaggia am dimenticato am dimenticato no non è sbagliato ho fatto rumeno italiano mischiato a moita mi sta perdendo allora ammuitat vuol dire ho dimenticato ammuitat quindi e noi cosa chiamiamo detto? I'm scurdat no ho mischiato ho mischiato paura e panico dimmi dimmi cosa vuoi sapere eh non lo so più cosa vuoi sapere oggi ho mangiato il sushetto as have mankat as have mankat as have mankat as have mankat aspetta no aspetta dobbiamo formularlo bene eh Astazi am mancat sushi Poi lui dice benissimo perché cagga il cazzo senza cercare Basta, cattio Poi? Poi Hai naso mare ca Pinocchio No, ti spacco Am naso mare Muy frumos Am naso mare Dai dillo No, hai detto che ti parlo meglio Due cose brutte ho detto che non le voglio Ma non sono cose brutte Sì invece, tutte come i miei capelli Dai dillo Mi sono frustata la faccia Con gli occhiali, con le capelli Mi naso Am naso est Am naso Am naso Am naso Del mondo Am naso ca tua poro Un porco Am naso ca tua poro 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 Aspetta, mi ascolti fai? No, cambiamo frasetta Vai Tà naso l'est No Poo Am naso ca tua poro Am naso ca tua poro Can't 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 o poro Can't fiorellipoli No Can't o poro Come si dicevano i fiorellini? Flori Florellipoli Florillipoli Ok, vai, vado Voglio picchiare Maricel Vreau să mă bată Maricel Vreau să mă bat Maricel Testimone Cosa? Sono testimoni lì No, perché non ho fatto niente Sai cosa hai detto, vero? No Voglio che mi picchi Maricel Piazzo di merda Oh, i testimoni Tu l'hai detto Non è vero Allora, vai Vreau bat Maricelul Vreau să îl bat Nu vrei più interabili Il Maricel Cosa sei nordico? Tipo il Miei la il Deci Deci Torniamo dopo Deci Maricel mi fa molto arrabbiare Maricel mă enervează foarte tare Foarte mult No multe Se usano un colpo d'altro Hermie E' facile E' romeno facile E' romeno simile 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 Sì, sì, sì Ma lei non sa parlare nemmeno lei Bene Forte multe Cacati Dute ci deschide jamul Dute de deschide Cid damul Jamul Jamul Sai cosa vuole dire? Vuoi aprire la finestra? Perché devo uscire quell'ape cos'è? Non è un'ape! è una una mosca una una formica volante 10 questo lo dobbiamo imparare perché già tutti marcelli marcelli nome da marcelli ma fa dimmi l'italiano ma ci mi farà vedere tanto marcelli varaza forte fare marcelli 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 eWAzen. forte fare fare marzo meno buona parte dare ma c'è nel mondo molto e tanto non si usa allora ti spiego è molto e per un tap volete tanto all'acqua troppo acqua e troppo acqua no troppa troppo con arriva pieno è troppa si usa così e marce mi farà bere troppo non è una se voglio dire che ruben maricelo ma io mi piace molto che senso ha il senso perfetto marcia benner was mult multare tar e tar perché te rabbi mi arrabbi da così ma dare molto con margello sfottò parlo scrivito di permette ecco hai visto cosa ti sei beccato sull'occhio cosa che canta non lo so perché io dopo ti devo bannare se non ci cose brutte da ma è il suo foco anno è l'incontrario da chi stiamo da chi stiamo prendendo lezioni di rumeno dai vai da chi stiamo prendendo lezioni di rumeno da un rumeno fico da un barbato sbarbatos da un barbato sbarbatos te lo tatuo in fronte su un barbato sbarbatos vai avanti ecco sai cosa vuol dire il tuo nome meno meno vero un fiorellino si ma vuoi che te lo traduco come il suo nome meno meno me lo avevi detto mi sa che rimane sconvolto no il mio nome da fiordino me l'avevi detto trandafir trandafir della mondova c'era c'è un giocatore che si chiama trandafir testo e lo meno su a re su su lol ma non ti ricordi c'è ci faccio bene tu come si dice vabbè perché tutti mi chiedono come vai non dico mai male perché non so tipo ci faccio male così così e cosa vuol dire male come rosa e invece così così che ti dico mi scusi che ti dico sono arrivato l'italia due mesi fa ma parlo lo meno puro puro ok ma se insieme alla mano è un tetto e scusi che dico sono arrivato in italia due mesi fa il mio figlio fa università qui e scusi che dico i rumeni sono tutti stupidi lui è un rumeno stupido allora intanto che parliamo che faccia troppo allora diciamo che questa dice lunga e qua ci inseriamo il nome che è rumeno non vi capisce quando parla con l'ha detto lui come dovrei impararlo io dai vai vai avanti che ho detto lì che fra trenta minuti devo andare ah gliel'ha detto ai fiorellini si l'ho detto già dimmi cosa vuoi sapere quanto sei brutto che già da freddo? che ti dico frutti di nuovo? che è? che hai chato? che hai chato? che è chato di blu ma fai da morire e invece la spate CÊT ESTE DE URIT URIT CÊT ESTE DE URIT CÊT ESTE DE URIT ma stai CÊT ESTE DE URIT DE CÊT ESTE CÊT ESTE DE URIT CÊT ESTE DE URIT Rosa MARCIAL E MAI DISPERAT MAI DISPERAT che vuol dire mi hai disperato e invece mi hai spaventato MAIISPERAT E LA STESSA QUA quindi io non capisco mai se qualcuno si è disperato o spaventato MAIISPERAT MAIISPERAT DAK MOR ROBERT SI MOR ROBERT MAIISPERAT SI MOR ROBERT SI MOR ROBERT POVERI ROBERT MA CALLOE ROBERT ti spiego la storia vai adesso c'è anche la storia c'era un zingaro che giurava sempre SI MOR ROBERT SI MOR ROBERT ma io l'ho chiesto ma chi è Robert ho visto uno sui giornali che eravano cinque fratelli tutti e cinque si chiamavano Robert e quando giurava SI MOR ROBERT 45 che stramberia ma lui non c'era come il suo fratello erano l'unico è Samara Robert quindi è ma 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 desperato è ma eserato è usato eserato mai sperato mai disperato mai sperato no ma perché dici sperato mai disperato mai disperato omule o cosa vuol dire umano omule quindi non abbiamo detto che si dice come non unica unica ma anche ma maia ma perché sai cosa ho scoperto gli antichi greci dicevano che c'era questa qui che si chiamava maia se non sbaglio si come la per maia maia che praticamente era una dea no non mi ricordo se era una dea oppure era tipo una fatina una fatina che faceva sia da balia ai bambini ed era vista come una vecchietta e faceva tutte anche come le nonne quindi voi avete preso il detto maia da dei greci che avevano questa vecchietta che faceva la balia ma mai avendo dal daco dell'ottocento avanti cristo forse non lo so non lo so dirti ma è vecchissimo te lo dico io viene da aspetta non esisteva la grecia non esisteva io parlo degli dei ok ho capito ho capito della mitologia greca è diverso forse sì non lo so sì sì si si chiamava maia e praticamente era proprio riferito tipo una nonna una 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 a cui diva i bambini così forse per questo perché ma mai si dice solo al nord della romania si poi l'hanno preso alcuni volete vedere cosa ha fatto il mio ciuto dato che non sa di un rumeno da me la manetta in arte un po così guys non si riesce a vedere vedete un po' un attimo il braccio però non si stacca qui vabbè si è bruciato come si è bruciato a marse a marse che si che possa bastare salutare e salutare salutare e niente fiorelline oggi il video di quinaria di giunto termine avete i nostri insegnamenti insegnamenti gratis di rumeno quindi 50 euro dopo eh ecco appunto gratis è andato via mi dissocio ci vediamo in un prossimo video di quinaria forse ci sarà un'altra lezione di rumeno oppure sorpresina sorpresina ci sarà una lezione di calabrese per il mio morimino rumeno curqua curqua perché adesso anche lui sta imbarando il calabrese perché praticamente vive da me e quindi parlando calabrese lui mi sta obbligando non è vero io ti voglio levarti tu sei sempre qua e niente fiorelline di nuovo salutare tas e ciao fiorelline ciao les